Buongiorno e benvenuti a IDS 2015, Sirona anche a questa fiera vuole presentare importanti innovazioni anche a livello della divisione radiologia. Prima di tutto il software 4.0 SIDEXIS che ha completamente rinnovato quella che è la sua intuitività e semplicità d'uso, SIO Scan, uno scanner ai fosfori top di gamma che permette la lettura di radiografie endorali e di digitalizzarlo. Infine Ortofos SL, il nuovo prodotto panoramico e tridimensionale con un volume molto più ampio che arriva a 11x10 e ha un nuovo sensore bidimensionale a oltre 4.000 strati.